Musica In questa puntata di Unicam News, grandi emozioni per gli oltre 300 partecipanti alla festa della laurea 2021. Il professor Guido Favia, nuovo direttore dell'Italian Malayan Network. Unicam ha dato il benvenuto alle matricole dei corsi di laurea della sede di Ascoli Piceno. Alvia un progetto di ricerca sui benefici del sonno nel prevenire malattie. Buonasera e bentrovati a tutti voi a questa nuova puntata di Unicam News. Questi titoli li abbiamo sentiti ma sentiamo subito il primo servizio. Entusiasmo ed emozioni nel pomeriggio di sabato 1 ottobre in occasione dell'appuntamento con la festa della laurea. La cerimonia di consegna delle pergamene di laurea a coloro che si sono laureati nell'anno accademico 2019-2020. Anche quest'anno affari da scenografia all'evento è stato lo spazio agora del campus universitario di Camerino, invaso da oltre 300 laureate e laureati delle 5 scuole d'Ateneo. Architettura e design, bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute e scienze e tecnologie. La cerimonia si è aperta con il saluto del rettore che ha provveduto poi alla presenza dei pro-rettori Graziano Leoni, Barbara Re, Andrea Spaterna e Luciano Barboni e dei direttori delle scuole d'Ateneo alla consegna delle pergamene di laurea. Nel corso dell'evento inoltre Unicam ha salutato ufficialmente anche i propri dipendenti, sia docenti che tecnici amministrativi che hanno lasciato il servizio nel corso dell'ultimo anno. Un piccolo ma importante fuori programma, il rettore ha voluto ringraziare i responsabili delle aree degli uffici amministrativi che durante la pandemia hanno consentito agli studenti di concludere il loro percorso formativo nei tempi previsti e nella massima sicurezza. Dallo scorso primo ottobre il professor Guido Favia, direttore della scuola di bioscienze e medicina veterinaria dell'Università di Camerino, è il nuovo direttore del Centro Interuniversitario di Il Cerche sulla Malaria Italian Malaria Network. Il Centro di Il Cerche ha finalizzato al potenziamento e al coordinamento degli studi che riguardano i principali aspetti della malattia, che vede la collaborazione tra ricercatori di diversi Atenei italiani e dell'Istituto Superiore di Sanità. Oggi entro in carica come direttore dell'Italia Malaria Network, centro interuniversitario per ricerche sulla malaria, che coinvolge i gruppi di ricerca di nuove differenti università e i gruppi di ricerca sulla malaria dell'Istituto Superiore di Sanità. Questo è appunto un centro che tenta di raggruppare quasi tutti i ricercatori italiani che svolgono ricerche sulla malaria. È nato nel 2007 sulla spinta del professor Arese, che è stato il primo direttore. Ovviamente sono orgoglioso, anche se un po' intimidito, perché i precedenti direttori sono stati personaggi del calibro del professor Arese, del professor Crisanti, della professoressa Taramelli. Però credo che sia un impegno che volentieri assumo e che poi porta appunto questo centro a essere coordinato dall'Università di Camerino. Quindi credo che sia anche per l'Università di Camerino un elemento di soddisfazione. Nei giorni scorsi l'Università di Camerino ha dato il benvenuto ai nuovi studenti e alle nuove studentesse che hanno scelto i corsi di lauree attivati presso la sede di Ascoli Piceno. In particolare i corsi di scienze dell'architettura, di disegno industriale e di tecnologie innovative per i beni culturali. Le ragazze e i ragazzi sono stati accolti, tra gli altri, dal rettore Claudio Pettinari e dalla delegata al tutorato Loredana Cappellacci. Mentre nel pomeriggio i docenti e il personale tecnico-amministrativo li hanno accompagnati nelle rispettive sedi. Grazie alle giornate di ambientamento per le matricole, infatti il servizio tutorato di Unicam vuole facilitare l'inserimento dei nuovi studenti nella realtà universitaria e fornire loro gli strumenti utili per affrontare senza problemi gli studi. Le giornate di ambientamento si chiuderanno il 17 novembre con l'appuntamento presso la sede di Matelica. Dormire bene potrebbe aiutare a prevenire malattie neurodegenerative come l'Alzheimer oppure a ritardarne l'insorgenza. È quanto stanno cercando di scoprire i cercatori del laboratorio del sonno di Unicam guidati dal professor Michele Bellesi della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. Il progetto ha ottenuto un importante finanziamento da parte dell'Alzheimer's Research della Gran Bretagna. Sentiamo. In Italia la malattia d'Alzheimer ha una prevalenza dell'8% per gli over 65 e questa prevalenza cresce ancora di più se consideriamo la popolazione sopra gli 80 anni. Non esiste ancora una cura, per cui è una malattia molto importante e molto invalidante per quanto riguarda la nostra società, soprattutto nella parte anziana. Nel tempo si è visto che c'è un forte legame tra la malattia d'Alzheimer e la qualità del sonno, come viene percepita. Per cui in questo progetto noi cerchiamo di approfittare dei benefici del sonno per cercare di vedere se, migliorando il sonno, riusciamo in qualche modo a contrastare la malattia. Utilizzeremo un modello trasgenico animale che sviluppa la malattia nelle sue caratteristiche principali, che è molto simile a quella dell'uomo, e andremo a vedere se, aumentando il sonno in questo modello animale, attraverso degli stimoli sensoriali durante il sonno, riusciamo a limitare, a frenare il decorso della malattia. Questo progetto è finanziato dalla Fondazione Alzheimer Research UK, è una fondazione inglese, e ci permetterà di testare per la prima volta appunto il ruolo del potenziamento del sonno in questa malattia. Bene, io mi fermo qui per questa puntata è tutto. Vi ricordo che tutte le informazioni sull'Università di Camerino sono disponibili sul sito internet www.unicam.it. A tutti voi grazie per essere stati con noi e buon proseguimento su TV Centromarche.